Salve, abbiamo per scatto, abbiamo, ah per scatto, la stigola dei tre chili, si pensa che sia sicuramente Questa è femmina, si vede già la bottarga, guardate, adesso apri un po' di più per farvi vedere la bottarga, sarebbero le uova di questo, è una regina del mare E' una super bottarga, guardate, guardate che bella, sembra anche che ci sia qualche altro, sicuramente c'è la seppia dell'indesco di Emanuele Facciamo contatto Salve Allora, stavo, tipo, procedo, ora faremo la, la treccia, facciamo la treccia, c'è la bottarga che c'è, la foto, no, la foto, guardate Quanti spiegoli abbiamo ucciso, sempre, quindi io, ti cassa, ti devi rinunciare, voi, effettivamente Pensate bene Poi che sei la seppia? Guardate, questo è l'indesco di Emanuele, è stato anche un po' tirchio, gli ha messo poco a poco seppia Dalla sepia, poi che sei la capa di questo, guardate, avete l'indesco di Emanuele? Poi, molte volte si usa il fegato, pomodoro secco, camperi come il coniglio, guarda! E' il corriente! Pianta un po' per la metà, però! Minca! Eh? Eh, sono due salsicce! E' un po' che c'è? No, mai vissi! C'è stata spanna! Questa è la sacca con la pelleggiare Questa è la fisica da Saturno Questa è il corpo che provoca il nostro figato Non è davantemente pronto Il cuore è diverso La sua vita Questa è quella Grazie per la visione!